Allora, intanto grazie a Francesca, grazie a tutti voi per essere qua e della presentazione del tutto immeritata e voglio però ringraziare anche altre persone che sono qui, il primo fatemelo ringraziare di cuore perché insieme da tanti anni facciamo politica, è Luciano Scimmino che è qui presente, che è un grande imprenditore, un imprenditore soprattutto che ci ha distinto da un fatto, oltre ad aver avuto un grandissimo successo in questa terra, che tu non puoi fare nessuna conversazione con Luciano che non sia riferita al mezzogiorno, cioè di qualunque argomento tu stia parlando, nel senso che ogni volta ricorda che il problema è l'opportunità dell'Italia al mezzogiorno e da lì bisogna ripartire. Fatemi ringraziare oggi Raffaele Bonanni che è qui con noi, una grande esperienza della Scisla e due amici che arrivano in azione che sono Peppe Sommese e Lina Lucci, tutte e due contribuiranno allo sviluppo di azione. Io voglio, scusate, non lo vedo in prima fira, dove è? Antonio D'Alessio, dove è andato? Si è nascosto. È Antonio D'Alessio, scusate. Io voglio incominciare da qui. Stamattina sono andato a vedere un termovalorizzatore che voi avete qui in campagna ad Acerra ed è un'assoluta meraviglia dal punto di vista tecnologico. Cosa fa questo termovalorizzatore? Prende circa 700.000 tonnellate di rifiuti secchi non riciclabili, li brucia, produce energia elettrica per 200.000 persone, depura completamente attraverso tre filtri tutte le componenti di quello che si è bruciato e le dà al settore dell'edilizia della siderurgia. Un perfetto esempio di economia circolare. In Italia per costruire un termovalorizzatore ci vogliono dieci anni e ci sono regioni, tra le quali Roma, in cui non si riesce a costruire un termovalorizzatore in nessun modo. Allora perché questo fatto è importante? Perché vedete la politica in Italia è una cosa impalpabile in cui tu parli di qualcuno che era di destra, poi si è alleato con la sinistra, poi ha girato al centro, poi il grande centro, poi il piccolo centro, poi 5 Stelle che non si dovevano alleare con nessuno, si sono alleati con tutti, non gli manca più nessuno, poi la Lega che voleva uscire dall'euro ma adesso non vuole più uscire dall'euro, poi la Meloni che dice io voglio uscire dall'euro ma se poi va al governo sappiamo già che dirà che lei non vuole uscire dall'euro, la politica non è questa, questa è una buffonata che va in scena in Italia da 30 anni. La politica è come si costruisce un termovalorizzatore, come si porta il gas, come si fanno funzionare le imprese, come è un sistema di amministrazione efficiente e a chi vi dice che la politica è la destra contro la sinistra? Rispondetegli che l'etimologia della parola politica vuol dire arte di governo, capacità cioè di realizzare le cose, secondo un pensiero certo, ma un pensiero che se non diventa mai azione rimane rumore e questo è quello che noi vogliamo fare, combattere la politica del rumore e affermare la politica dell'azione che conclude, che fa accadere la cosa. Ora è difficile perché noi in Italia siamo vissuti per molti anni con l'idea che quello che contava, la cosa fondamentale della politica che proprio era irrinunciabile era non far vincere l'altro. Perché? Perché l'altro a seconda delle prospettive o è un fascista o è un comunista, o vuole far invadere il paese dagli extracomunitari o vuole elevare le libertà fondamentali. Non c'è mai un'elezione normale. Noi le elezioni normali non ce le abbiamo. Noi abbiamo ogni volta lo scontro della fine dell'universo e non cambia mai assolutamente niente. Sapete quant'è finto questo scontro? Adesso ve lo racconto. Qual è il tema più divisivo negli anni scorsi che c'è stato in Italia? L'immigrazione. Ci hanno rotto le scatole con l'immigrazione per cinque anni. Va alla destra al governo Salvini e dice io espello gli immigrati irregolari. Giusto, sono irregolari. 600.000 in Italia. È arrivato Salvini. Oh, se scherza più, ne espelle meno di Angelino Alfano. Vara una cosa che si chiama decreto sicurezza, che tanto non fanno i decreti attuativi, non funziona. La sinistra dice che la democrazia è a rischio con questi decreti sicurezza. Qui non ne saltiamo fuori. Gravissimo. In piazza, sardine, cefali, alici, tutti in piazza. Eredi tutti dei partigiani. Qui in questo paese non c'è uno che non si erede dei partigiani. Vogliono costruire gli stadi di frisbi mentre quelli stavano, poveracci, sull'Appennina a combattere. Però sono tutti eredi dei partigiani. Bene. Va al governo la sinistra con i 5 stelle. C'era Conte, 15 giorni prima. Conte era letteralmente chiamato dalla sinistra il burattino di Salvini. Passano 15 giorni, diventa il grande punto di riferimento dei riformisti senza che lui abbia fatto niente. Va alla sinistra. Cosa fa alla sinistra sull'immigrazione? L'integrazione. Avete sentito parlare dell'integrazione. Cosa fa sull'integrazione della sinistra? Zero. Ma di più. Si tiene i decreti sicurezza. E allora come mai questi decreti sicurezza, che provocavano la fine della democrazia, se li tiene la sinistra non sono più gravi. Non è più problema. Sono una cosa tranquilla, normale. Allora, cosa ci insegna quello che è successo sull'immigrazione? Che la ragione per cui i toni sono così alti e le realizzazioni sono così basse è perché vi vogliono militarizzare. Quello che vogliono farvi dire è, ma io non lo so, non mi piacciono i 5 stelle, non condivido Conte, non mi piace quell'altro, ma ci sono i fascisti e se ci sono i fascisti, oh, stiamo tutti dalla stessa parte, chiunque sia, mettiamoceli di tutti. Un altro esempio? Elezioni a Roma. Elezioni a Roma succede che prima del primo turno un pericoloso sovversivo di destra come Giorgetti dice Calenda è un bravo amministratore. Apriti cielo. Tutto il PD incomincia a dire che io sono il candidato della Lega, senza saperlo. e è di destra, è di destra, è di destra. Prendiamo il 20%, diventiamo il primo partito a Roma e poi vi dico come lo abbiamo fatto. Prendiamo il 20% e a Gualtieri servono i nostri voti. Le stesse persone, guarda io ve lo dico anche il nome perché è una persona che mi sta pure simpatica, Andrea Orlando, stessa persona che aveva detto Calenda è il candidato della Lega, dice Calenda fa parte della grande famiglia del campo largo, scusate che è sempre il campo largo, del centrosinistra. Io dico ma trovate ne un altro che fa questa dichiarazione? Ma questo è lo stesso che ha detto una settimana fa che io ero della Lega. Allora questo confine tra destra e sinistra, parliamoci chiaro, se lo spostano un po' come gli pare a loro, esistono la destra e la sinistra. Sì oggi c'è una divisione sostanziale che non è più quella tra i socialdemocratici e i popolari o tra i popolari liberaldemocratici. La divisione vera è tra chi sa che il nostro futuro è in Europa, chi crede nella democrazia liberale e chi non ci crede. Chi è che non ci crede? Beh per esempio chi si allea con ungheresi e polacchi, cioè chi sceglie i sovranisti di dire io non sto con i grandi paesi europei, Germania, Francia, Spagna e certe volte mi ci scontro anche perché difendo gli interessi nazionali. No, io sto, rinuncio alla serie A e vado a giocare in serie C, con chi? Con l'Ungheria e con la Polonia. Ora si dà il caso che Ungheria e Polonia siano la principale causa delle delocalizzazioni che ci sono in Italia oggi. Sono paesi che prendono la maggior parte dei fondi europei, tengono bassi i loro costi, prendono le nostre aziende e poi rompono anche le balle perché non vogliono che si faccia l'Europa. Noi siamo quei grandi paesi ma soprattutto pensiamo che quei paesi, Ungheria e Polonia, devono andare fuori dall'Unione Europea. Dunque sì, esiste una differenza tra destra e sinistra, cavolo, esiste una differenza che si nutre delle cose che fai, esiste una differenza che si nutre della capacità di realizzare le cose che propone. Allora, noi siamo partiti a fare una campagna a Roma e questa campagna a Roma, a Roma dovete sapere che è per darvi una dimensione grande come Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Catania e Palermo messo insieme. Questo è Roma. Ed è una città molto complicata, molto difficile, molto scettica, per alcuni versi assomiglia a Napoli, è una di quelle grandi capitali che si sente un po' decaduta, scettica, che pensa che è impossibile avere una buona amministrazione. Noi abbiamo provato a dire una cosa, adesso lavoriamo duro, non facciamo una cosa in cui incominciamo a dire con chi ci alleiamo, con chi non ci alleiamo, lavoriamo duro, in profondità, andando in ogni quartiere di Roma tre, quattro volte, facendo un programma che parla delle cose, appunto del termovalorizzatore, che non rimane sui massimi sistemi come quando per esempio Gualtieri, ma tutto il PD parla che voi sentite dire, ma voi cosa volete? Noi vogliamo una società inclusiva, verde, giusta, a misura di donne, a misura di bambini e a misura di anziani. Se sei un maschio di 40 anni per il PD sei fregato, perché si fanno sempre sfuggire questa categoria, i maschi di 40 anni. Ma soprattutto non c'è mai un come, che fai? Ma dimmi che fai? Ecco noi abbiamo fatto una campagna in cui l'abbiamo detto con grande chiarezza e abbiamo scelto di non fare 98 liste con tutto il contrario di tutto, ma fare una lista di grande qualità. Siamo diventati il primo partito a Roma, battendo Fratelli d'Italia, PD, Lega e tutti gli altri. Questa è la testimonianza che le persone si sono profondamente stancate di essere prese con la scusa della destra e della sinistra, essere condotte in un recinto dove rinunciano alla loro libertà di valutazione. Perché vedete, la potenza del cittadino, la vostra potenza è il dubbio, è il fatto cioè di non dare mai il voto per scontato. Non dire io voterò a destra, io voterò a sinistra, voterò a azione, voterò a PD, ma dire ogni volta tu mi devi convincere con la qualità delle persone, con la qualità dei programmi, con la serietà, con la trasparenza e con la coerenza. Non c'hai tutto questo, io il voto non te lo do, anche se te l'ho dato prima. Perché questa è la cosa che non solo stimola i partiti a rinnovarsi, avere proposte innovative, ma libera il cittadino da una servitù che è volontaria, in cui si sottomette dicendo io votavo Berlinguer e continuo a votare PD anche quando invece di Berlinguer c'ho Franceschini. Con tutto il rispetto per Franceschini, che però con Berlinguer c'entra poco, e questa rivendicazione dell'appartenenza che oscura tutto quello che fai, quello che dici, come ti comporti, tutto questo va fatto cadere ed è pronta l'Italia a farlo cadere. Volete sapere perché è pronta oggi? Per due ragioni. La prima è il Covid. Vi racconto una storia. Nella 2019 Azione è nata presentando un progetto sulla sanità, novembre 2019. Da quell'analisi, e per questa regione vale il triplo, si capiva che la sanità italiana era in una crisi profondissima. Non si riusciva, pensate qua, otto mesi per una visita oncologica in media in Italia, tredici mesi per una mammografia. Ogni anno gli italiani spendevano e spendono 40 miliardi di euro, ve lo ripeto, 40 miliardi di euro per curarsi privatamente. Era ed è un disastro nazionale, in questa ragione è un disastro ipocale che costringe le persone per potersi operare o fare una tacca ad andare privatamente. Abbiamo mostrato questi numeri e cercato di spiegare cosa si doveva fare. Per esempio, per fornire borse di studio agli specializzanti di medicina di cui nessuno si occupava, tale per cui oggi noi abbiamo lo Stato che spende 280 mila euro per formare un medico che si va a specializzare in Germania. E gli unici a fare questa battaglia siamo stati noi. Ebbene, dopo che avevamo presentato questi dati così drammatici, uscirono un sacco di articoli di giornale su Azione, il nuovo movimento che nasceva su di me, su Matteo Ricchetti, non una parola su quel contenuto. Era novembre 2019 e io chiamai i direttori e gli dissi ma perché non avete preso questi numeri eclatanti e non li avete riportati sui giornali? E la risposta è stata perché è un argomento troppo tecnico e poco politico. Due mesi dopo eravamo in lockdown. La politica è esattamente la discussione su come migliorare il sistema sanitario. E se noi avevamo un dubbio, ce l'eravamo scordato, l'abbiamo capito col Covid, che la differenza tra uno Stato che funziona e una politica che fa funzionare lo Stato e un chiacchiericcio di sottofondo del nulla, tra partiti che hanno una classe dirigente a cui non si affiderebbe la gestione di un bar, è esattamente quella per cui quando c'è un'epidemia la differenza è la vita o la morte. E questo cambia tutto Signore. Perché fa capire agli italiani che tutto quello che hanno sentito, tutto il ciarpame, il rumore, la distrazione, quello mezzo nudo al papete, Di Maio che ha abolito la povertà, quegli altri non ciarleremo mai con il Movimento 5 Stelle, quegli altri non ciarleremo mai col PD, tutto questo cade, non gliene frega niente più a nessuno. Perché hanno capito che tutto quello che si dice, quando la realtà colpisce, cade. Voi avete mai chiesto a Draghi se è più di destra o più di sinistra? A chi gliene frega qualcosa se Draghi è più di destra o più di sinistra? Quello che ci importa è che faccia funzionare le vaccinazioni, che sia capace di fare il PNRR, che sia cioè in grado di fare delle cose che sono politica perché sono governo, che sono politica perché sono azione e non rumore. Certo, Draghi ha un pensiero specifico, è quello liberale e socialista che peraltro è il pensiero di azione, azione si chiama così per il partito d'azione, ma al di là di questo poi è cosa fai? Non solo lo spirito con cui tu lo fai. E allora partiti che si erano dati fascisti, ladri di bambini, traditori della patria, corrotti, mafiosi, si sono messi tutti insieme, zitti e muti. Perché? Perché non avevano più una classe dirigente in grado di governare e l'unica soluzione era chiamare un signore e affidarsi a questo signore. E nonostante la guida, voi immaginatevi una macchina dove c'è il papà che guida, questi partiti costantemente, tutti i giorni, nel sedile di dietro fanno un casino che la metà basta. E a me sembra tanto di vedere come il papà che si gira dice vabbè fate casino ma non troppo per favore, che mi distraete. E questa cosa è la mortificazione della politica. Perché mentre Draghi noi non lo abbiamo eletto, loro li abbiamo eletti e la responsabilità è tutta nostra. Signori noi possiamo continuare a raccontarci che noi non abbiamo a che fare con la qualità della classe politica, abbiamo tutto a che fare con la qualità della classe politica. Perché quella classe politica non sta lì perché ce l'ha messa Babbo Natale, sta lì perché ce l'abbiamo messa noi. Allora quando io andavo in giro a Roma e chiedevo ma perché avete votato la Raggi? Cioè come si può prendere una persona che letteralmente non aveva alcuna esperienza di lavoro e votarla per gestire la città più difficile del mondo? Allora prima di tutto non incontravo mai uno che aveva votato la Raggi. La Raggi non l'aveva votata nessuno. E poi la dinamica, era la famosa dinamica del paziente dello psicanalista che va a raccontare, cioè vorrebbe raccontare che lui ha tradito la moglie ma siccome si vergogna parla dell'amico. Allora quando io parlavo della Raggi mi dicevano no ma io non l'ho votata però c'ho un amico che l'ha votata. E gli dicevo e dimmi perché l'ha votata il tuo amico. E lui mi diceva perché io ero arrabbiato? Dico ma di che cosa? Dopo tre minuti l'amico è diventato lui. Ma dico perché i politici fanno schifo. Ma quali? Quelli che c'erano prima? Ma chi li aveva votati? Non lo so. Allora noi viviamo tra il voto, anzi no scusate vi faccio un esempio. Do uno domani corna facendo una zia ricca muore e vi lascia un bel bar diciamo a piazza dei martiri. Con la gastronomia i tavolini fuori e voi dovete farlo gestire perché voi avete mai gestito un bar? No fate altro. Siete architetti, medici. Allora dovete fare dei colloqui. E cosa chiedete alla persona che gestisce, che volete assumere? Uno, se ha mai gestito un bar? Due, se ha gestito, se proprio non ha gestito un bar una cosa simile? Tre, cosa vuole fare con quel bar? Quattro, che risultati ha avuto? insomma quello che voi fate è usare la testa e le motivazioni razionali per aggiudicare, per dare in concessione, per assumere una persona che gestisca una cosa che è vostra. Non lo fate con la politica. Con la politica tutto questo non conta. Allora come mai un bar non lo dareste mai in gestione a una persona, non lo daremmo mai in gestione a una persona che non ha avuto esperienza e lo Stato o il Comune sì. Perché il bar noi lo sentiamo nostro ed essendo nostro col cavolo che lo diamo in gestione a uno che viene e dice vaffa. Dice lei cosa pensa? Vaffa! Via tutto! Solo succhi vegani! Leviamo le sedie! Tutti in piedi che fa meglio! Non lo dareste! Ecco, noi abbiamo cura delle cose che sentiamo nostre e per ragioni che sono molto lunghe, molto storiche, molto radicate, in particolare qui nel Mezzogiorno. Non lo facciamo con quello che è anch'esso nostro, che è la cosa pubblica. E se noi non cambiamo questo, noi non usciamo dal medioevo in cui siamo piombati da trent'anni e non ce ne siamo accorti. Noi non ci siamo accorti giorno dopo giorno che l'Italia piano piano si allontanava dai grandi paesi di testa dell'Europa, la Germania, la Francia. Voi direte sull'economia, sì sì, sull'economia. Ma non è la cosa più importante. Sapete qual è quella più importante? Si allontanava dal punto di vista di istruzione. Oggi l'Italia è tecnicamente il paese più ignorante d'Europa prima della Grecia. E la ragione per cui lo è, è che nel tempo di tutto abbiamo parlato, del Cavaliere Nero, delle patrimoniali, dei Loden, tranne che delle cose che contano. E allora quello che succede oggi è che nella scuola secondaria, al termine della scuola secondaria, i ragazzi italiani sono impreparati, la Commissione europea fa un'analisi su tutti i paesi identica, sono impreparati per il 40%, la media europea è il 20%. E voi direte adesso che i ragazzi italiani che voi conoscete, figli, cugini e nipoti, sono i migliori e più preparati di tutti. Sì, quelli che vanno al liceo e all'università e sono pochissimi. Quelli che vanno all'università in Italia sono pochissimi. Drammaticamente peggio nel sud secondo ogni parametro. Sapete quanti ragazzi nel sud leggono almeno un libro l'anno? Cioè leggono? Il 30%, il 70% non apre un libro. Questa è una tragedia civile ed economica. Perché i grandi paesi, i paesi sviluppati, non crescono se non attraverso quello che viene chiamato il capitale umano. Cioè la capacità di far succedere qualcosa. E noi ci siamo baloccati con un branco di incompetenti, leggi Di Maio, che andavano a raccontare basta con i plurilaureati nel paese che aveva meno laureati in Europa e ce lo siamo sorbito. Io uso l'esempio di Di Maio, non perché ce l'abbia particolarmente con Di Maio. Ho detto l'altra volta, perché adesso Di Maio è diventato un sostenitore di Macron, prima c'era il gilet giallo, adesso c'ha il frac, che porta malissimo peraltro. Ma al di là di questo, quello che mi è capitato di dire recentemente è che Di Maio era inutile e dannoso col gilet giallo e solo inutile col frac, ma è comunque inutile. E la ragione per cui io lo uso ad esempio non è il fatto che lui vendesse bibite al San Paolo, perché questo in democrazia non è un problema se tu lo voti, o meglio è un problema di chi ti ha votato e dunque non è un problema. Sapete qual è il vero problema? Io prima di arrivare al ministero avevo lavorato alla Ferrari, all'Interporto, a Sky, a NTV, a Londra, al San Paolo di Torino, alla Prudential. Quando sono arrivato a fare non il ministro, il viceministro, io sono stato molto spaventato di non saperlo fare e per un lungo periodo, anche quando sono diventato rappresentante permanente, cioè ambasciatore a Bruxelles, e anche e soprattutto quando sono diventato ministro. Grande agitazione. Pensavo, in particolare quando ero viceministro responsabile per il Made in Italy, io devo rappresentare una cosa di eccellenza in Italia e posso fargli fare figuracce all'estero, posso non essere preparato, perché tutti noi nella vita, quando ci capita l'occasione di un grande ruolo abbiamo e dobbiamo avere dentro di noi l'ansia di non riuscirlo a fare. Sapete cosa ha fatto Di Maio? Quando è diventato ministro per una congiunzione astrale unita a una psicosi collettiva degli italiani, non ha detto, oh io ho il ministero dello sviluppo economico, sono quattro ministeri insieme, industria, Made in Italy, energia e telecomunicazione. Por caccio Giuda. Io adesso mi prendo delle persone preparate, non parlo per un anno, cerco di capire come mi chiamo in questo multiverso di cui non comprendo niente e lavoro. No. Lui sapete cosa ha detto? Ha detto no, il ministero è troppo poco. Io non posso accettare solo questo. A me dovete darmi anche il ministero del lavoro, perché io se no non mi diverto, perché la mia esperienza è talmente gigantesca, la mia capacità manageriale è talmente provata, che io faccio solo il ministro dello sviluppo economico? Ma non mi basta perché voglio essere anche vicepresidente del Consiglio. Io ho pensato dentro di me quando accadeva che se noi vedessimo un comportamento del genere in un nostro amico, probabilmente lo considereremmo pazzo. Ma se lo fa un politico non ce ne frega niente, perché siamo abituati a qualsiasi cosa. Il nostro ragionamento, i nostri valori che sono fondamentalmente sani, guardate come l'Italia ha affrontato la pandemia in fondo. Tutto questo cade quando c'è di mezzo la politica, non vale più. E quindi tutte queste cose che noi vediamo come Salvini che diventa ministro, anche lui senza aver fatto mai niente nella vita e se ne va in giro alla sagra della salsiccia e al papete invece che stare al ministero degli interni, che è il più importante ministero italiano, garantisce la sicurezza del paese. E io pensavo dentro di me, ma come fanno gli italiani a non semplicemente giudicare da questo? Come giudicherebbero un loro amico, un loro collega di lavoro? Questa tracotanza dell'ignoranza che conduce le persone a pensare di poter fare tutto, perché in questo paese tutto gli ha concesso. Perché tanto la politica è una sorta di, non voglio dire X Factor, perché in X Factor almeno c'è il talento, ma di grande fratello, dove ci sta simpatico uno, ci sta antipatico l'altro e ragioniamo solo per questo e quello è bravo perché parla alla pancia. Bravi! E quindi qual è l'obiettivo degli italiani? Essere un apparato digerente. Qual è? Qual è il punto? Se noi queste cose non le guardiamo in faccia e continuiamo a pensare che non abbiamo niente a che fare con quello che accade nella politica, quando abbiamo tutto a che fare con quello che accade nella politica, noi non usciremo mai e questo incantesimo ci terrà bloccato come i criceti sulla giostra, che girano e poi si arrabbiano e poi votano uno perché sembra più arrabbiato e quello dopo perché ancora più arrabbiato e non si risolve mai niente ma continuano a votare quello più arrabbiato dell'arrabbiato, di quello che ha votato come arrabbiato e a un certo punto tutto esplode e tutto esplode, non è la crisi finanziaria, tutto esplode, è la crisi che porta i ragazzi delle regioni meridionali, in alcune aree delle regioni meridionali a non avere altra alternativa nella vita, di quella di poter aspirare ad andarsene fuori dall'Italia e io lo so che sono pochi, vedete in questa manovra finanziaria c'erano tante cose che non andavano, noi abbiamo fatto una sola proposta, i giovani fino a 24 anni in media guadagnano 9.900 euro lordi, qui molto di meno, i giovani dai 25 ai 29 in media 15.000 euro, qui molto di meno, nella fascia di età fino a 24 anni ai giovani italiani in media il 60% dei giovani italiani gli conviene prendere il reddito di cittadinanza che lavorare, ai giovani dai 25 ai 29 il 40% ha convenienza economica a prendere il reddito di cittadinanza. Abbiamo detto una cosa semplice, ci sono 8 miliardi, 5,4, utilizziamoli per azzerare le tasse dei giovani fino a 24 anni e diminuirle del 50% fino ai 29. Sapete quanti hanno adorito a questa proposta? Zero. Sapete perché? Perché ragazzi sono pochi e fuori dal paternalismo e dalla retorica non gliene frega niente a nessuno. Ora c'è un dettaglio che io voglio spiegare perché quando scrivo questo sui miei social molta gente dice ma perché i cinquantenni no? Ma no, ma certo, tutti i cinquantenni, le pensioni che si allungano, la sanità, certo, certo, possiamo fare tutto. Chi vi dice questo vi prende in giro. Perché i ragazzi sono urgenti? Se ne vanno 131.000 l'anno, Siracusa sparisce ogni anno. Ma soprattutto chi credete che manterrà il sistema sanitario nazionale? E le pensioni chi le mantiene? Chi è che manterrà se gli ingegneri, i medici oppure anche gli operai se ne vanno fuori perché non guadagnano a sufficienza? Chi è che li regge questi sistemi pensioni? Io lo dico ai sindacati che ogni volta si presentano con una lista in cui dicono allora vogliamo più soldi per le pensioni, allora vogliamo più soldi per questo, per quest'altro, la diminuzione del cuneo, l'abbassamento eccetera e poi alla ragazzi bisogna fare qualcosa, non quest'ordine di priorità in questo paese non va più bene perché fra trent'anni noi non manteniamo le pensioni e dobbiamo ripristinare la sanità a pagamento integrale. Vogliamo questo? Vogliamo questo? Perché tutti noi abbiamo qualcuno che ha avuto una malattia cronica. Perché è vero che l'Italia è il paese più longevo ma è anche vero che per conseguenza è quello che ha più malattie croniche. Mia moglie ha avuto una leucemia, è stata curata al gemelli dai migliori professori che ci sono in Italia. Sapete quanto mi è costato? Zero. Sapete quanto costa negli Stati Uniti? Un milione di euro. Volete qualcosa per cui vale la pena abbattersi? Per i giovani oggi e per il sistema sanitario nazionale perché quella fa la differenza. Altri soldi? Spiace, non ci sono, non ce li possiamo inventare perché non funziona come dice Borghi che fa i mini bot e gli stampi. Se l'è dimenticato ma voi vi rendete conto che all'ultima elezione della Lega ha presentato un dépliant in cui c'era scritta cinque facile mosse per uscire dall'euro? Non lo so. Allora al cuore di tutto questo c'è la ragione per cui è nata Azione. Azione è nata perché io mi ero profondamente stancato di sentir dire che non si poteva amministrare l'Italia. Vedete al Ministero dello Sviluppo Economico dove i miei amici manager e imprenditori mi dicevano quando andrai non riuscirai a fare niente. Io ho fatto tutto quello che volevo. Le uniche due cose che non sono riuscita a fare le ha distrutte la politica. La vendita di Alitalia a Lufthansa che avrebbe mantenuto il marchio e le persone e invece quel genio di Di Maio ci è costato altri 4 miliardi di euro, bontà sua, col plauso del Partito Democratico e l'ILVA dove noi abbiamo cancellato un contratto da 4,2 miliardi di investimento nel mezzogiorno. Credo che non ci sia un altro caso. Io penso che se uno arriva da Marte pensa che siamo non un branco di matti, un branco di pazzi scriteriati. Tanto per dirvene una, la stessa battaglia sull'ILVA io l'ho dovuta fare su un tubo di un metro che portava il gas dall'Azerbaijan e si chiamava TAP e oggi vedete quanto è importante averlo, in cui quel luminoso esempio di illuminismo e progressismo del governatore Emiliano raccontava che quella roba là, 8 metri sotto terra, era come Auschwitz, un tubo così, come quelli che ci sono qua fuori. Se noi non la smettiamo con queste idioci, ho dovuto combattere l'idea che un eminente, tra virgolette, medico aveva detto che il gas 8 metri sotto terra in un tubo d'acciaio era calcio erogeno. Ora io sono assolutamente favorevole a ascoltare la scienza. L'unica domanda che ho posto a questo signore, che ha avuto molte pagine sui giornali prima di essere smentito, è ma quando accendi la macchinetta il caffè? No, perché se 8 metri sotto terra in un tubo d'acciaio è calcio erogeno, quando ti fai un caffè muori all'istante, per definizione. E io sono andato a farmi il bagno sulla spiaggia che doveva essere deturpata e siccome si interra 8 metri dalla costa tu non lo trovi, dici dove cazzo sta? E cavolo sta sto tubo, finché a un certo punto c'è una boa 4 chilometri a largo, rossa, e ti dicono è lì più o meno che si interra. Ho dovuto militarizzare quell'area, militarizzare. Ho ricevuto più minacce di morte per quel tubo di un metro. È la storia del termovalorizzatore, è la storia di tutto. È la storia per cui tutte le sere noi vediamo in televisione un branco di matti scriteriati che vanno a raccontare idiozie in prime time perché si ritiene che abbiano lo stesso diritto di parola, come se uno avesse diritto, dovesse anzi ospitare, quando parla dell'olocausto, un nazista che sostiene che hanno fatto bene. Non lo facciamo, no? Se Piero Angela ci spiega la deriva dei continenti, non è che invita uno che è convinto che la terra è piatta per parità di che condizioni, no? Cioè la vita è faticosa così. Allora i media che sono parte decisiva della distruzione totale di questo paese e della sua politica, nonché di alcune bufale di proporzioni cosmiche che girano nell'orbe, i media hanno invitato il professor Cacciari, che secondo me gli è successo qualcosa perché altrimenti non si spiega, che per tre trasmissioni ha detto che i giapponesi non erano vaccinati. Dopo ogni trasmissione hanno pubblicato su Twitter la classifica delle vaccinazioni crosse del 76%, dicendo guarda che ha detto una stupidaggine. L'intervistatore dopo la sera non è che gli ha detto scusi Cacciari, lei sta dicendo una idiozia, cioè non è una discussione, è un dato di fatto. No! Ha continuato a far fare il dibattito tra quello che dice, e tre volte è andato. Ma come è possibile? Come si può? Allora questo paese non è in declino perché la politica ha tutti i mali e tutto quello che sta fuori dalla politica è buono. No, questo paese è in declino perché non votiamo con la testa, perché non siamo liberi, non ci sentiamo liberi di valutare, giudicare e conseguentemente premiare o non premiare, perché la politica ha perso il senso di quello che autenticamente era come arte di governo e fare le cose, perché questo declino è stato accompagnato. Da poteri dello Stato, vedi la magistratura, e da poteri della pubblica opinione, vedi media, che hanno allegramente spalancato le porte al populismo dei Cinque Stelle, definendo una stagione di disastro civile che si conclude con i Cinque Stelle che sono diventati i più democristiani di Nudeur e di Mastella, mentre ci hanno rotto le balle per cinque anni dicendo che eravamo tutti ladri. Allora io la domanda che mi faccio e la domanda che faccio agli amici del PD è perché, perché nella vita può succedere che viene aperto ai Cinque Stelle il gruppo socialista europeo che è uno dei più importanti, mentre un parlamentare di Cinque Stelle fa allevare in Italia la qualifica di socialista da Matteotti perché la considera un'accezione negativa. Perché? Qual è il senso? Per cosa combatte un ragazzo quando diciamo non fanno politica? Ma perché deve fare politica? Di che cosa? Su che cosa? e voi? Che speranza abbiamo di cambiare amministrazione, far funzionare una scuola se tutto è solo e sempre la stessa cosa? Sei di destra, sei di sinistra, sei sopra, è il grande centro, è Toti, è Brugnaro, ma che due balle? Ma perché una persona che può scegliere di fare altro, una persona di qualità dovrebbe voler fare politica se la politica è questa roba ridotta, piccola, squallida, inutile? venite con noi a combattere? È dura ed è lunga, i cambiamenti non si compiono in pochi mesi, i sovranisti più di noi l'hanno saputo fare, prendendo partiti dal 2% andando in giro in tutta Italia riconquistando il voto, quando mi chiedono cosa vuoi fare? Questo, perché? Perché la politica è questo, non è la fare scelte impopolari, quelle idiozie non sono politica, la politica è far diventare popolari le scelte giuste ed è molto più difficile, ed è molto più bello e avvincente e se questa è la strada che scegliete io porto azione al 20%, lo so come lo sapevo per Roma e chi vuole costruirla con noi è benvenuto, chi non si comporta secondo le regole di condotta gli tagliamo le mani e lo accompagniamo alla porta, perché c'è un punto che non si comprende, la trasparenza, i comportamenti retti non sono un vezzo morale, sono il modo attraverso cui le persone si riappassionano della politica. La nettezza che è quella che mi ha guidato quando ho lasciato il PD potendo diventare ministro col governo 5 Stelle e poi sindaco di Roma, non sono un vezzo di primazia per poter dire io sono l'incorruttibile, no è il modo per cui la gente si fida della parola, perché la politica è anche la parola e se la parola non ha valore, non ha valore la politica. Nulla può sfingere signori e signore una persona a fare politica oggi che non sia idealista, coraggioso e forte, se no non c'è una ragione, perché è una strada lunga, impervia, difficile in cui prendi un sacco di sberle, eppure è la cosa che resta di te e forse in un secolo in cui prima Francesca faceva riferimento a questo bellissimo libro in cui si perde il senso di se stessi, perché per molti si è perso il senso della spiritualità religiosa della patria, si diceva una volta i romani dicevano per gli altari e per i focolari, cioè l'idea che la tua vita non era per te ma era per queste due cose e dunque non c'era dentro di te un nichilismo che ti abbatteva e diceva ma io posso evitare il dolore ma non posso evitare la morte e più posso tenermi in forma, comprarmi un milione di cose, fare quello che vuoi, ma tutto questo è finito, c'era dentro qualcosa che era più. E certo io sono un laico, ma penso che la perdita di questo spirito, anzi scusate di questa spiritualità che sia laica o religiosa è un grandissimo problema della modernità. E vi dico però una cosa che può aiutare a ricostruirla, il senso di quello che per i romani era la gloria repubblicana, cioè l'idea che tu fai qualcosa che resta di te negli atti politici per la res pubblica che fai. Cacchio se vale la pena fare politica per questo ed è l'unica ragione per cui io la faccio, il resto non me ne frega niente. E dunque quando mi dicono sei abrasivo? Sì, sono abrasivo perché questo paese sprofonda nella melassa retorica. Non si dicono mai le cose come stanno perché è preferibile raccontare una serie di racconti, storie, siamo buoni, siamo bravi e non c'è mai quella cosa che dici cacchio dico le cose come stanno. E se una cosa non mi piace la dico perché non mi piace. La politica è anche forza, ma non è la forza della violenza della parola o del gesto, è la forza di chi dice le cose per me sono così e sono nette. E certo farò compromessi, faremo compromessi. Ho governato cinque anni, ho fatto centocinquantacinque tavoli di crisi, il compromesso era la mia vita ma è il compromesso per raggiungere qualcosa. Non è il compromesso per autoconservarti quando poi non ti conservi. Questa è la politica che facciamo a azione ed è l'unica politica che potrete fare con noi. E dunque se volete partecipare a alzare in piedi l'Italia seria, quella che lavora, studia, produce, fatica o lo ha fatto nel passato, se volete che i giovani abbiano un ruolo non perché abbiamo un'associazione giovanile perché noi non ne abbiamo, i giovani fanno politica accanto le persone meno giovani a tutto titolo, non ci sono acquari dove nuotano come pesci rossi. Se volete questo, cioè fare alzare in piedi l'Italia seria, che è maggioranza rispetto a questo branco di cialtroni che ci siamo subiti per trent'anni, se volete fare questo, questo è il posto. Io non ho gente da portare, ho solo da prestare la mia opera per cercare di andare in televisione, spiegare le cose, raccontarli, riempitelo voi, azione. Non mi ho fatto scissioni, non mi sono portato via nessuno, non era questo l'obiettivo, l'obiettivo era una nuova classe dirigente che partiva dal territorio perché sul territorio gli amministratori sono gli unici che hanno contatti ancora con i cittadini e sanno amministrare. I parlamentari per il 90% neanche si ricordano da dove vengono. Volete questo? Siete a casa. Volete altro? Volete il grande centro, il fritto misto, l'alleanza con Tizio? Non siete a casa. Andate con il massimo del rispetto per la vostra strada perché la nostra è tosta, è difficile, è complicata, è lunga ma enormemente entusiasmante. Grazie. Bene signori, dopo sta fatica se non vi scrivete azione vi spacco le rotule come si dice a Roma e vi voglio dire che qui abbiamo montato una nuova squadra, Francesca, Luciano è il nostro papà diciamo in qualche modo, sicuramente il mio e vi prego iscrivetevi e fate questo lavoro insieme, ne abbiamo molto bisogno. Grazie ancora e buona serata.